Un appuntamento oramai che si ripete, siamo alla 19esima edizione, sempre più novità, un film festival che ha retto nel tempo e continua a dare grandi soddisfazioni a noi tutti, ma soprattutto ai turisti, ai tanti visitatori che in questi giorni continuano a raffollare vasto il suo territorio. Un film festival che guarda molto alla cultura, come io preferisco ripetere sempre, il cinema e cultura, avere tanti ospiti illustri, registi importanti, attori qualificati, sia attori giovani sia meno giovani, come appunto Ninetto Davo. E' l'ennesima prova di un film festival che si è collaudato oramai negli anni. E di questo siamo tutti soddisfatti, richiamo di pubblico, richiamo di critica, richiamo di personaggi importanti del mondo del cinema e della televisione anche. Quindi non posso se non essere soddisfatto, anche perché è la parte più importante, se vogliamo, tra le più importanti di un cartellone estivo che già ha dato tante tante soddisfazioni anche alla nostra città, oltre che naturalmente ai tanti visitatori e turisti.